Massi e fango riversati per strada da più giorni e le incessanti piogge del fine settimana non hanno fatto altro che aggravare lo stato delle cose. Le immagini chiariscono la testimonianza dei residenti della frazione San 40 di Tortora, ma le cose non cambiano anche spostandosi a Pizzinno in altre frazioni montane. Stiamo parlando di dissesto idrogeologico. Il racconto e la segnalazione arriva da chi vive lì o da chi frequenta per lavoro o per altre ragioni quei luoghi. Insomma da chi vorrebbe svolgere normalmente senza rischi o timori la propria quotidianità. E spesso quando si è in famiglia minori o anziani l'attenzione aumenta. Ma parlare di normalità per le frazioni di Tortora spesso non è possibile, come spiegano gli stessi abitanti. Come detto parliamo di dissesto, le condizioni meteo rappresentano una causa, ma ci sono anche altri fattori come gli incendi e le montagne di Tortora non ne sono esenti. Tanti fattori dunque che minano l'equilibrio del territorio. A tutto ciò, precisano i cittadini del quartiere, dobbiamo aggiungere uno scarso livello di monitoraggio e controllo del territorio da parte dell'ente, oggi come ieri.